Piazza Vittoria La platea è molto ricca, noi amiamo avere platee corpose ma non esagerate. Abbiamo deviato sempre sulla possibilità di avere un pubblico molto attento anche se non mille persone ma 300 molto attenti, cosa che siamo sempre riusciti a fare. Ad aprire la rassegna uno dei massimi chitarristi internazionali, Andrea Braido, noto per essere il chitarrista storico di Vasco Rossi e che ha collaborato con tanti big della musica. Insieme a lui sul palco un'altra eccellenza, il chitarrista Guido Di Leone, che supportati dalla batteria di Mimmo Campanale e dal basso di Pierluigi Balducci, hanno dato vita ad una performance eclettica e travolgente, valore aggiunto alla sua lente voce di Francesca Leone. È una buona musica, è una bella musica piena di energia, è una musica profonda e quindi quando c'è l'occasione di poterlo fare è una cosa molto 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 importante, molto bella e sono molto orgoglioso di essere qui questa sera per questa serata con bravissimi musicisti pugliesi. Il contesto è sempre bello, poi io sono pugliese per cui i nostri paesi sappiamo bene che hanno sempre da regalarci qualche emozione, soprattutto poi questi magari turisticamente meno noti, io vengo dal Bares, da Bari, per cui città come Polignano, Monopoli ormai hanno una rinomanza pazzesca, però scoprire questi borghi, queste piazzette e presentare della musica sofisticata come la nostra è sempre una cosa veramente di pregio. Prima dell'inizio dell'evento è stato dato un particolare riconoscimento al giovane chitarrista Vincenzo Tommasi per il profondo impegno profuso in questi anni all'interno della rassegna. Prossimo imperdibile appuntamento con Caprarica in jazz il 25 agosto con Nico Gori.